buongiorno ho sempre pensato che il sentimento più alto che un uomo possa provare sia quello della gratitudine un uomo prova gratitudine quando chinandosi sulla propria storia riesce a vedere bellezza anche nelle pieghe e nelle ferite prova gratitudine non perché comprende tutto ma perché intuisce un senso altissimo della propria storia di cui il dolore e le contraddizioni sono solo battute di una sinfonia più grande buona giornata